Mi chiamo Andrea Ballotti, sono autista della CAP da 32 anni, sono molto lusingato di questo perché mio padre faceva l'autista della CAP anche lui per tanti anni, lo ha fatto, io ho seguito le sue orme mi piace guidare e ho guidato autobus anche di generazioni molto diverse rispetto a quelle di oggi Attualmente faccio la linea esterurbana e turismo, faccio parte del consiglio di amministrazione di CAP e ho la funzione di far parte anche della commissione tecnica e quindi la mia esperienza lavorativa mi ha portato a tante conoscenze e facendo parte di questa commissione tecnica sono stato incaricato di provare questo bus elettrico che ci sta veramente entusiasmando Mi piace guidare principalmente e comunque guidare l'autobus dà modo di socializzare anche in qualche modo con le persone, con gli utenti Avendo guidato tanti autobus, trovandomi a guidare un bus elettrico mi diciamo che cambia il sistema di guida e comunque il motore elettrico richiede un'attenzione maggiore per quanto riguarda appunto l'autonomia Non è più difficile da guidare e anzi è molto più confortevole in quanto non è rumoroso e quindi anche più si arriva meglio alla fine della giornata lavorativa Guidare un bus elettrico è un lavoro comunque uguale ma diciamo più accogliente e stanca di meno durante la guida rispetto ai bus motorizzati con il motore termico Grazie